E' l'Europa tutta che deve farsi carico dell'accoglienza degli immigrati. Lampedusa non è il confine dell'Italia, è il confine dell'Europa. E comunque non accettiamo lezioni di umanità e di accoglienza da parte della Francia. Ognuno faccia la sua parte. Il governo si sta muovendo nella direzione giusta per aiutare concretamente famiglie e imprese contro il caro energia e l'inflazione. La strada giusta è quella di dare segnali concreti di tranquillità sociale a famiglie e imprese.